Radio Bruno Presentato il calendario dell'ottunno Longobardo per valorizzare e vendere un territorio. Sì, l'obiettivo fondamentale del nostro progetto è proprio quello di fare in modo che il territorio venga scoperto o riscoperto anche dai nostri concittadini. La collaborazione con le nuove amministrazioni comunali ci ha permesso di creare 16 appuntamenti che non si occupano soltanto di enogastronomia ma vanno in qualche modo a cercare di valorizzare anche la cultura dei singoli territori. L'obiettivo appunto è quello di fare in modo che comunque la gente torni a vivere i nostri nuovi comuni, veda e conosca chiaramente dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico i nostri ambienti e viva anche dal punto di vista enogastronomico chiaramente le bellezze che sono ovviamente non soltanto quelle culturali ma anche quelle del palato. Il segreto per mantenere viva una rete? Beh, i segreti non ce ne sono, è sicuramente la collaborazione forte che ci deve essere con chi amministra i comuni, in questo caso con le nuove amministrazioni che insieme a noi costruiscono la progettualità. Per noi è importante collaborare con loro e mi sembra che in questi due anni anche le amministrazioni abbiano visto che la nostra associazione sia un punto di riferimento per costruire dei progetti reali. Il calendario abbiamo detto molto ricco, inutile ricordarlo tutto, abbiamo un sito di riferimento? Sì, www.stradadelvinocollidelongobardi.it, lì si possono trovare le informazioni, chiaramente il calendario e tutti gli appuntamenti che dal 19 di ottobre al 27 di novembre si realizzaranno nel nostro territorio.